Telespettatrici, telespettatori di Rosini TV, buonasera, benvenuti anche questo lunedì al nostro appuntamento con Check Up Obiettivo Salute, la nostra maratona medica che va in onda praticamente per tutto l'inverno, grazie alla collaborazione con Fisioradi Medical Center. Oggi avremo ospite nel nostro studio, qui nella struttura di Vismara, la dottoressa Lucia Mingolla. La dottoressa Lucia Mingolla la conosceremo per la prima volta in questa occasione, in quanto non ha partecipato al primo ciclo di trasmissioni, è specializzata in endocrinologia, poi anche in diabetologia, ma veramente la sua particolarità è sull'endocrinologia. Ha avuto un percorso formativo innovativo, in quanto in realtà ha seguito più specializzazioni contemporaneamente, vive a Pesaro, lavora in Emilia Romagna, viene dal sud Italia, è davvero una dottoressa, una persona straordinaria che conosceremo insieme. Ed eccoci qua in studio con la dottoressa Lucia Mingolla, benvenuta, buonasera. Grazie, buonasera a tutti. La dottoressa Lucia Mingolla è una collaboratrice del centro Fisioradici, ha una grande esperienza maturata anche in tanti altri ambiti, ambiti sanitari e ospedalieri, ha una particolarità che ha una specializzazione in realtà abbastanza complessa e anche completa, perché è specializzata in endocrinologia, in diabetologia e malattie del metabolismo. Quindi in realtà il suo percorso è un percorso che è bene comprendere meglio. Sì, io mi sono formata come medicina e chirurgia a Roma e lì alla Sapienza. Ho seguito la tesi di laurea e quindi anche il tirocinio ai fini della tesi di laurea in endocrinologia, nell'endocrinologia pura, dove trattavamo soprattutto l'ipofisi, il surrene e la tiroide. E poi però la specializzazione l'ho conseguita a Verona, nella scuola di endocrinologia e diabetologia del professor Bonora. E qui il percorso è stato un po' più ampio perché è una scuola amatrice metabolica diabetologica e io oltre questo ramo ho seguito poi la parte endocrinologica, soprattutto per quanto riguarda la tiroide, in quanto mi sono occupata per tre anni della gestione dei tumori tiroidei, e poi dell'ambito della parte dell'endocrinologia riproduttiva e ginecologica. E qui ho conseguito sempre a Verona un dottorato di ricerca di tre anni, dove mi occupavo soprattutto delle patologie tiroidea in gravidanza e del diabete gestazionale. E questo mi è stato molto utile perché quando poi mi sono trasferita a Pesaro, io vivo a Pesaro. È originaria di Taranto ma vive a Pesaro. Sì, diciamo che sono un po' viquitaria. Ho iniziato a lavorare a Rimini, in Emilia Romagna, in Asla Romagna. E qui, insomma, il mio percorso è stato sia in diabetologia che in endocrinologia e come anche referente per quanto riguarda la parte endocrinologica della ginecologia e della gravidanza, quindi il diabete gestazionale, le tiriopatie e le patologie precedenti, insomma, per avviare una gravidanza. Infatti collaboro anche con i centri romagnoli della fisiopatologia della riproduzione. Considerate che la dottoressa Mingolla viene due volte al mese qui a Fisionati Medical Center. L'ha detto, la sua specializzazione è la tiroide. Questa ghiandola, così tanto conosciuta come nome, ma effettivamente spieghiamo meglio che cos'è la tiroide, dottoressa. Allora, la tiroide in realtà è una piccola ghiandola, non è molto grande, che si trova qui nella parte anteriore del collo. È una ghiandola che ha una forma particolare, viene chiamata una forma di farfalla, perché è costituita da due lobi, destro e sinistro, legati tra loro da un istmo. Quindi forma proprio una piccola farfalla. Ma è una ghiandola importantissima, perché se c'erano degli ormoni, gli ormoni tiroidei, che sono necessari per tutto l'organismo, per il metabolismo di tutto l'organismo. E i recettori per questi ormoni tiroidei sono presenti su tutti i tessuti e organi. Quindi è una ghiandola che serve a 360 gradi. E le patologie della tiroide sono molto frequenti, ma nello stesso tempo sono molto curabili, diciamo. Anche se creano, prima di essere trattate, notevoli disagi per il paziente. Quindi sono delle patologie frequenti che danno sintomi e segni clinici che possono essere a volte anche molto gravi nelle forme più severe di tiroidismi, quindi di alterazioni della secrezione ormonale, sia in eccesso che in difetto. Ma dottoressa Mingolla, ha parlato di patologie che comunque sono abbastanza frequenti, ma come ci si fa a rendere conto che c'è qualcosa che non va con la tiroide? Cosa ci succede? Cosa mi succede? Qual è la campanella che mi squilla nell'orecchio e mi dica andiamo dall'endocrinologa per capire cosa sta succedendo? Allora, spesso non ci sono dei sintomi patognomonici, ma sono delle alterazioni abbastanza specifiche. Parlo quando la tiroide funziona poco o quando c'è una sottostante processo di tiroidite cronica autoimmune che però non ha dato ancora danno d'organo. E quindi in questo caso i sintomi possono essere molto lievi e molto specifici come maggior sonnolenza, maggior stanchezza, difficoltà di concentrazione, stipsi, maggior sensazione di freddo. Questi sono sintomi che propendono per una ridotta funzione della ghiandola tiroidea con una ridotta produzione ormonale, cioè l'ipotiroidismo. Invece l'opposto, ossia l'ipertiroidismo, quindi una iperfunzione, iperimmissione in circolo degli ormoni tiroidei, quello dà segno di sé, perché dà innanzitutto un dimagrimento non sano, un dimagrimento patologico, anche mangiando molto. Quindi già questo è un primo segno che ci si raccorge. Poi si possono avere tremori alle mani, insonnia, stanchezza, maggior irritabilità da un punto di vista emotivo, nervosismo. E un altro segno abbastanza patognomonico sono le tachicardie, le palpitazioni. Oltre che l'organismo inizia ad andare un po' in deficit, per cui anche sforzi lievi, come può essere salire le scale, possono creare affanno, possono dare dispnea. Quindi l'organismo dà segno di affaticamento. Questi sono importanti sintomi di allarme, per cui bisogna subito eseguire gli esami biochimici della funzione tiroidea e poi vedere uno specialista. A proposito di questo, una domanda collaterale. L'utilizzo di medicinali a base di ormoni tiroidei, quindi può richiamare a disfunzioni anche nel senso che magari c'è chi li prende non proprio a ragione perché magari non vuole acquisire peso oppure no? Allora, questo è da anni controindicato assolutamente. Cioè l'ormone tiroideo ai fini della perdita di peso non esiste come terapia perché appunto può creare uno squilibrio ormonale e un danno alla tiroide per cui non viene assolutamente consigliato. Parlo per conoscenza perché quando io ho iniziato non c'erano più in commercio, però so che anni fa, penso 30-40 anni fa, vi erano dei composti che venivano utilizzati per dimagrire che poi sono stati banditi dal commercio proprio perché creavano uno squilibrio ormonale che poteva poi essere irreversibile. Nel migliore dei casi, sospendendo queste terapie, si aveva una restituzione di integrumo ma non era scontato per tutti. Quindi grande attenzione nell'utilizzo dei farmaci, questo ovvio. Sì. Quando si parla di tiroide. Ma in assoluto, ma anche quando si parla di tiroide, ancora di più. Diciamo che sì, il sovradosaggio di solito poi dà delle conseguenze. Un'altra cosa di cui tanto si parla quando si fa riferimento alla tiroide sono i noduli. Cioè, cosa significa? I noduli ci preoccupa questo termine o è tutto affrontabile abbastanza facilmente? Allora, fortunatamente è tutto affrontabile perché la tiroide è una ghiandola che di per sé è predisposta a formare i noduli. I noduli sono delle alterazioni circoscritte del tessuto tiroideo stesso. Spesso sono noduli cistici, sono noduli liquidi perché la tiroide produce un precursore degli ormoni tiroidei che viene immagazzinato e spesso viene immagazzinato formando poi questi piccoli noduli che non dovrebbero esserci, però in alcuni soggetti si creano. È una patologia molto frequente, riscontrabile veramente in 7-8 pazienti su 10, soprattutto nel sesso femminile. E quello che bisogna fare è, logicamente, valutare da uno specialista, mediante l'ecografia, che è una tecnica assolutamente non invasiva, di valutare questo tipo di noduli, quanti sono la grandezza, le dimensioni e le caratteristiche ecografiche. Per quanto riguarda le caratteristiche ecografiche, vi è una stratificazione del rischio in base a queste, per cui poi, in noduli un pochino più sospetti, viene posta l'indicazione a eseguire un esame di secondo livello, mini-invasivo, che si può eseguire tranquillamente in ambulatorio, che è l'ago aspirato tiroideo, per avere poi una diagnosi da un punto di vista citologico del nodulo. Un altro importante fattore è la carenza iodica, che può slattentizzare un aumento volumetrico della tiroide e anche un aumento circoscritto, cioè la formazione di noduli. Quindi molto importante, anche per la popolazione generale, a meno che non vi siano diverse indicazioni, quello di avere accortezza nell'introduzione di iodio. Di iodio. In conclusione, dottoressa, la prima cosa che le volevo dire, poi ce ne sarà una seconda, l'ago aspirato che tra poco si comincerà ad effettuare anche qui, a Fisionadi Medical Center. Sì, io li eseguo settimanalmente già in ospedale in Ariemi, in Aslo Romagna, e adesso volevo iniziare anche qui una procedura mini-invasiva, che si fa in maniera in ambulatorio, quindi nulla di particolarmente complicato. si utilizzano degli aghi molto sottili, che sono più sottili di quelli utilizzati per il prelievo ematico, e vengono prelevate delle cellule dai noduli, che verranno poi analizzate dall'atomo patologo per valutare appunto l'acetologia. La seconda cosa che le volevo dire, per concludere, l'arcipelaco greco è composto da centinaia di isole. Ce n'è una nel Dodecanneso, che non so se lei conosce, che si chiama Astipalea, che è perfettamente a forma di farfalla. Quindi potrebbe essere un invito, anche a lei che è così appassionata di tiroide, andare a fare la prossima estate un bellissimo viaggio in questa isola meravigliosa del mare Geo, e veramente a forma di farfalle sembra esattamente la tiroide. La vado a vedere su Google, e invitiamo anche i nostri telespettatori. Dottoressa, grazie davvero. Grazie a voi, buona serata. È stata davvero molto molto bella questa chiacchierata. Vi rimandiamo all'appuntamento di lunedì prossimo. Buon proseguimento a tutti. Grazie a tutti.